Anche questa è di Caimi, che era un baiano molto virilichino, non si poteva dire le cose sessuali, parlare di cose molto osse, ma lui usava un po' la sua, usava delle metafore per parlare di sesso. E' una ricetta di Bahia, che si chiama patata, e bisogna avere una nega baiana, una di Bahia, meglio sinera, che sappia girare, mescere il piatto, perché bisogna girarlo, Sì, no, è come la polenta, anche il giallo è come la polenta, che non creano grumi, e Caimi dice così. Qu'è un'altra cosa? Qu'è un'altra cosa? Qu'è un'altra cosa? Grazie a tutti Buon appetito! 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 Buon appetito!